Ciao ragazzi, sono Ima Sierressi, sono il libero della CUME. Vengo da Santeramo in Colle, ho 26 anni e oggi sono qui con Thomas che prepariamo un piatto pugliese, riso, patate e cozza. Ciao, benvenuta. Grazie. Sei pronta? Sì. Ti piace cucinare? Sì. Meglio così, visto che lo farei tu. Allora, io tu ho già preparato gli ingredienti. Il riso, le cozza te le ho già aperte, le prate le ho già tagliate, cipolla, olio e chiaramente i cubetti di pomodoro pomì. Sale, pepe e l'orlo vegetale che è già pronto e caldo. Quindi componiamo il nostro piatto e poi lo lasciamo cuocere in forno. Ok, va bene. Allora, un goccino d'olio per ungere la piazza da sotto. Ok, basta. Perfetto. Con le mani. Con le mani? Sì, 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 vai, vai. Mani, mani. In cucina si usano le mani. Ora, uno strato diviso. Ok, uno strato. Mamma, mi stai guardando? È brava, eh? Sono brava, eh? Basta, perfetto, stendelo. Ok. Adesso, uno strato di cozza, uno di patate e uno di cipolla. Così intanto io ti importuno perché voglio sapere un po' cosa fai in squadra. Io faccio il libero, un ruolo molto particolare dove non faccio punti, però devo prendere, non devo far far punti. Non devi far far punti, è importante, è molto importante. Devo cercare di prendere più balli possibili. Quanto è che sei in squadra? Questo è il mio quarto anno nella pomì. E giochi da? Non mi ricordo più. Da quando ero piccola a piccola perché mamma giocava e io la seguivo ovunque. Basta. Ok. Questa la mettiamo al centrale. E adesso una bella manciata di cipolla. Ok. Perfetto. Ti apro, te lo apro io. I pomodori, pomì, a cubetti. A cubetti. Ok, visto che le mani bagnate. E ne puoi versare un bel po'. Un bel po'. Perfetto. Benissimo. Basta. Adesso rifacciamo un altro strato uguale. Prima di riso. Di riso. Esatto. Ti sei allenata oggi? Oggi ci siamo allenate, sì, ho finito a luna. Pesi o...? Abbiamo fatto l'allenamento per la palla. Quindi adesso c'è le cose giuste. Sì, sì, vai vai, le cose. Tensione prima della partita o... È giusto? No, è giusto. È giusto. Patate. No, anche perché oggi hai pulito le cose, i pelato le patate, i pelato la cipolla. Con la... Cioè, mi hai fatto di roba oggi. È stata una giunatoccia. E invece il tuo piatto preferito qual è? La parmigiana. La parmigiana di melanzane? Di mamma. Di mamma. Di mamma. La parmigiana di melanzane da voi. Io sono robagnolo. È come i cappelletti da noi. Sono buoni quelli di mamma. Gli altri possono essere quello che vuoi, ma niente. Con d'ora. Sì, lo finiamo. Buonissimo. Bello. Questo. Brava. Questo. Brava tu. Bravo pesetale. Presina. Ti sposto questo. Tu lo avvicino. Ok. Basta. Perfetto. Non era tutto. Perfetto. Adesso noi lo copriamo e lo mettiamo in forno. 170 gradi per circa 20 minuti, ma ogni tanto controlliamo la cottura. Va bene. Quindi noi ci vediamo fra una ventina di minuti con l'assaggio e vediamo il risultato. Ci vediamo tra poco. Riso, patate e cozza è pronto. Come ti sembra il risultato? Bellissimo. Bellissimo. Assaggiamo. Adesso prova l'assaggio, vai, prego. Ok. Così mi dici se sei stata brava o no. Vediamo se sono stata brava. Buonissimo. Saporito? Sì. Il pomodoro l'abbiamo azzeccato? Perfetto. Come si chiama la mamma? Chiara. Chiara? Promossa. Perfetto. Grazie per essere stata qui con me, per aver cucinato con me. Ciao, grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti.